fatina ma è meraviglioso finalmente sono pronta per il ballo no aspetta cenerentola manca ancora una cosa che cosa prendi una zucca non ho capito la zucca zucca si si e adesso trasformeremo questa meravigliosa zucca ma che è sta cosa ah fatina mi dispiace ma il raccolti è andato malissimo troppe piogge troppo sole c'è rimasta solo questa che possiamo fare eccola qua mettetela vediamo che si può fare va e adesso trasformerò questa zucca in una meravigliosa carrozza ma c'è sta cosa è una carrozza no è un ciuccio veramente bici non ti piace cambiamo carriola buon mattino a pecar a pecar col nonno bici bici elettrica pedalata assistita tandem reshow skateboard siamo un taxi vabbè fatti il senso che perdiamo tempo che si è fatta quasi mezzanotte ma arriva pure la matrigna da dormire è andata così si voleva oppure questi caspite di scarpe che mi fanno male ma come le fate plexiglass il vetro va caro pure c'è tra mille fatti nel mondo a me questa no niente niente buonanotte ma chi se fumo e smog però non sto regno è invivibile